Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, proprio da pochissimi minuti è arrivata una bellissima notizia, una notizia attesa da tutti noi tifosi napoletani, cioè il rinnovo del contratto di Fuzzi Goulam fino al 2022. Quindi finalmente è stato trovato quest'accordo dopo oltre un anno di trattativa dove lo stesso Goulam de Laurentiis e il suo agente non riuscivano a trovare un accordo per quanto riguarda l'ingaggio. In gaggio sui 3 milioni compresi bonus, nel contratto dovrebbe essere presente anche una clausola rescissoria valida soltanto per l'estero sui 40-50 milioni. Goulam, come sappiamo, purtroppo è infortunato. Si è rotto il legamento crociato nella partita di Champions League contro il Manchester City lo scorso primo novembre, però questo rinnovo è stato davvero importantissimo perché non ci potevamo permettere di perdere Goulam a parametro zero visto che in questo momento è davvero tra i terzini sinistri più forti in circolazione. Ricordiamo che il suo contratto era in scadenza a giugno del 2018. E ovviamente, come stiamo sempre dicendo, l'assenza di Goulam in queste nostre ultime partite si sta facendo sentire davvero molto. Senza di lui stiamo segnando anche di meno tre gol nelle ultime quattro partite perché Goulam anche nelle nostre azioni offensive in fase di spinta era davvero super importante per noi. Quindi anche Goulam, sempre di più una bandiera del nostro Napoli questa è la sua quinta stagione in maglia azzurra arrivò al Napoli nel mercato di gennaio quando eravamo al primo anno di Benitez e divenne da subito un titolarissimo. Negli scorsi anni ci dava sempre un ottimo contributo in fase di spinta ci ha sempre fatto fare molti gol facendo molti assist però commetteva un po' troppi errori in fase difensiva e non riusciva ad avere una certa continuità di prestazioni mentre ora quest'anno davvero aveva raggiunto la sua maturità definitiva davvero si stava dimostrando tra le rivelazioni di questa stagione del Napoli stava facendo davvero grandissime prestazioni ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra alla prima di campionato contro il Verona poi ci ha fatto vincere una partita che si era messa davvero male contro la Spal dove eravamo sul 2 a 2 e lui davvero con una corsa pazzesca e con un tiro a giro nell'angolino ci porta sul 3 a 2 e ci fa vincere la partita poi anche contro il Manchester City all'andata in un'azione simile a quella con la quale poi ha segnato contro la Spal si prende il calcio di rigore che poi diavara segna quindi Fuzzi Goulam ora è tra i top della nostra rosa cioè guadagna tra gli ingaggi più alti del Napoli e dopo Mertens, Samsic ed Insigne è quello che guadagna di più più o meno ha lo stesso ingaggio di Goulibaly che è anche sui 3 milioni 3 milioni e mezzo quindi ragazzi finalmente è arrivata questa notizia alla vigilia della partita di domani contro il Feyenoord che sarà decisiva per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale che purtroppo come sappiamo non dipenderà soltanto da noi e davvero se lo merita Goulam se lo merita perché sono 5 anni che davvero fa molto bene e 5 anni che è un titolarissimo e suda davvero la maglia e poi soprattutto quest'anno stava facendo davvero delle prestazioni straordinarie e speriamo di vederlo in campo per fine stagione e speriamo di festeggiare il tricolore proprio quando rientrerà Goulam che Goulam insieme alla sua guarigione dall'infortunio festeggerà anche lo scudetto speriamo davvero bene ragazzi detto questo ragazzi io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli